Dentro! Dove? Dentro la chiesa? Dentro. Cammino. Sì, sì. Rochard, Rochard, non ti gnezzo tu, eh. Sta zitto, lascia farmi. Signor Marchese, sei te? Ma chi è? Don Bastiano? Sì, signor Marchese, sono io. Vieni avanti, vieni avanti. Ti sei messo paura, eh? Eh, paura, spari. Molto la fai con un franzoso? No, Bastiano. Per me lui è un uomo, non un francese. Io so amico dell'uomo, non del francese. Ho capito. Come io con Napoleone, eh. Con un pozzonacito. A quello bisognerà abbia ammazzare le cento volte, però. Ma no, tiene due coglioni così come uomo, eh. E poi si è fatto da solo, come me. Perché prima era un povero prete e ora sono un capobondo. Rochard, lo sai che era paraco, Don Bastiano? Ehi, Franzoso, lo vedi quest'albero dietro le mie spalle? Eh? Te sei stato fortunato che ti ho trovato che stavi in compagnia del signor Marchese. Perché se no, io a te, se ti pigliavo da solo, ti sistemavo, ti schiaffavo quattro chiodi e ti mettevi in croce qua sopra. Così ti imparavi a rispettare Dio. La madonna e i santi. E fatevi il nome del padre, porca puttana. Fate il nome del padre. Merda. Così, fate sentire.